Al termine delle vacanze per le feste di Natale e di Capodanno è più che positivo il bilancio turistico per la Liguria e per la stessa provincia d'Imperia. Quello che è emerso è un trend positivo che conferma la competitività della Liguria come regione turistica anche in una stagione come quella invernale, tipicamente dedicata ad altre mete come la montagna, che fa ben sperare per una primavera e soprattutto per un'estate di grande successo. I dati sul turismo in Liguria confermati dall'osservatorio turistico regionale registrano un aumento delle presenze del 5% rispetto al 2014 e del 7,10% negli arrivi. I numeri segnalano una crescita dei turisti in tutte le quattro province Liguri. In testa per gli arrivi c'è la Spezia con addirittura un più 17,04%, Savona è a più 4,23%, segue Imperia con più 3,22% e chiude Genova con più 1,59%. Questi dati ci spronano a proseguire nel cammino intrapreso fin da subito, fare della Liguria una regione appetibile per i turisti tutto l'anno, ha commentato l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino. La Liguria è terra di vacanze e tempo libero non solo d'estate ma anche sotto le feste di Natale, dimostrando di poter dire la sua, conclude il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Tuttavia occorre uno sforzo eccezionale di tutte le categorie per garantire un'offerta turistica quantitativamente e qualitativamente in grado di cogliere la favorevole congiuntura internazionale.